Tarda un pochino Paganin a effettuare il suo lancio che comunque l'ha messa al laterale L'ha effettuato lo stesso Paganin Verso Ferri bisogna liberarsi subito dal pallone, in effetti Ferri lo fa con un pochino di affanno Recupera però ancora il pallone, cerca di andare sull'avversario, riesce a rubarglielo L'arbitro indica che si può proseguire subito Matteo su un grande classe e poi con un fallo viene atterrato L'arbitro indica chiaramente però che nonostante l'entrata fosse fatta alle spalle Come possiamo rivedere era stato colpito il pallone, gioca proseguito regolarmente Adesso c'è lo scambio tra Ivkovic, il portiere jugoslavo che ha giocato i mondiali difendendo la porta della nazionale jugoslava e Oseano Tocca Berti, poi arriva Paganin, pallone lanciato in avanti per Serena Poi Berti che riesce a servire Bianchi, Bianchi per Paganin, ancora per Bianchi Pallone che non filtra Va in avanti questa volta lo Sporting di Lisbona Il tiro, un raso a terra innocuo Zenga non si preoccupa di tanto, osserva semplicemente la traiettoria del pallone Va a riprendere la sua posizione, le ha l'autore del tiro E dicevo che c'è una sola variazione all'inizio di commento delle due squadre Rispetto all'andata con Serena al posto di Pizzi per schieramento utilizzato da Trapattoni E con Joao Luis che gioca con il numero due al posto del numero due Shadieck Colpito da Squalipica per un turno, non gioca quindi questo ritorno della semifinale Finisce a terra Berti Il calcio di punizione deve essere battuto in una posizione molto più arretrata Verso Bianchi, effettuato il cross Difficile il controllo, vediamo se il pallone è uscito Calcio di rigore, calcio di rigore indica l'arbitro Il pallone all'indietro su Bianchi Era riuscito in una delle sue progressioni sempre molto pericolose Matteus arrivare vicino alla linea di fondo Sembrava che il pallone dovesse uscire Servito il pallone all'indietro su Bianchi che si preparava C'è stato un intervento palloso E quindi l'arbitro del francese Biguet Assegna questo calcio di rigore Quarto d'ora esattamente il quindicesimo calcio di rigore In favore dell'Inter si appresta Matteus A battere Abbiamo intanto rivisto ancora il pallone che ha provocato il rigore Tutto è pronto, Matteus davanti di fronte a Ivkovic Un portiere che di rigore gli para Tiro fortissimo, assolutamente imparabile Un raso terra tra l'altro Con Ivkovic che si è buttato dalla parte opposta Quindi quindicesimo nel corso del primo tempo Si sblocca il risultato Quindi Inter in vantaggio per 1-0 Con gol di Matteus sul calcio di rigore E qui sentiamo subito il parere di Facchetti Mentre potete osservare ancora la ripetizione Il rigore è iniziappibile La decisione dell'arbitro Adesso si presenta così qualche pericolo Nella interpretazione tattica che deve avere l'Inter Dopo che è andato in vantaggio Non deve tirarsi indietro Lasciare troppo iniziativa allo Sporting Sappiamo che è una squadra molto dotata tecnicamente L'Inter deve continuare a giocare Come ha fatto negli ultimi dieci minuti Cercando di attaccare Perché l'1-1 è a vantaggio dallo Sporting Avevamo già detto in effetti Durante l'inizio del nostro commento In fase di presentazione dell'incontro Che qualunque situazione di parità Consentirebbe allo Sporting di passare il turno Quindi l'Inter è obbligata a vincere questa partita Per arrivare alla finale Siamo adesso quasi al diciassettesimo C'è il primo calcio d'angolo in favore dello Sporting di Lisbona Colpo di testa allontanata la palla da Bergumi Tutta l'Inter era tirata in copertura Adesso c'è la possibilità di aprire il contropiede C'è il lancio verso Klisman Che era nella posizione irregolare In quanto si trovava l'infiltura all'interno Della propria metà campo Breme Lancio in avanti Troppo in profondità questo servizio Per il compagno anche di nazionale Klisman Applausi comunque del pubblico Per l'azione d'attacco portata avanti dall'Inter Che a due minuti fa è passato in vantaggio Con un rigore trasformato da Matteus Il pallo era stato commesso ai danni di Bianchi Gira in acrobazia Berti palla però conquistata con facilità Dal reparto arretrato dello Sporting di Lisbona Intervento del libero Battistini Palla allontanata ancora Matteus Cerca giustamente l'appoggio verso Breme E libera la sua pascia Lancio in avanti questa volta Per lo scatto ancora di Serena Che cercava forse di chiudere un triangolo con Breme L'anticipo da parte di Oceano Che è arretrato Dovrebbe essere agile il disimpegno Si è liberato facilmente Paganin del Douglas Ancora Bianchi tenta un triangolo che non si chiude però con Serena Accelera subito la sua azione lo Sporting di Lisbona Un fallo commesso da Bianchi Calcio di punizione Non è corretta la posizione dice l'arbitro Fallo su Filippe Intanto l'azione si sposta adesso verso Oceano È libero sulla destra però Jean-Louis Ecco che riceve Può andare al cross Che era più che altro forse un tiro Klisman Toccato Klisman Vediamo che cosa C'è uno scambio adesso Di scorretezze fra i due Una spinta tra Klisman e Oceano L'arbitro va lì a indicare Che si debbano alzare tutti e due Non mi pare di capire Che ci debba essere Di chiama però l'arbitro entrambi Avete visto Non l'ha assolutamente sfiorato A meno che non sia un'impressione Dovuta all'ottica delle telecamere Azione che possiamo però rivedere C'è la spinta Mentre Silvicino è a prendere il pallone Non l'ha raggiunto Comunque l'arbitro ha chiamato i due giocatori Mentre vedevamo il replay Abbiamo osservato direttamente l'azione sul campo E ha chiamati tutti e due Dice non lo fate più Altrimenti vi caccio Si riprende quindi Con il calcio di punizione Che è stato fischiato Ancora spazio per Bremen Decide l'appoggio verso Nicola Berti Silotta in campo Calcio di punizione Già battuto Era stato Cadete Che aveva subito il fallo Ottimo questo lancio In copertura Poi bravissimo Matteus Non c'era altro da fare Che buttarsi in spaccata Per anticipare Lo scatto di Oseano Sare fortissimo Il grido di incoraggiamento Qui l'arbitro concede La norma del vantaggio C'è stato un pallo su Serena Palla in possesso di Chiesmann Dietro per Bremen Bremen vede Matteus Matteus scaglia Questo pallone in avanti Arriva proprio dalle parti Di Chiesmann Che però viene saltato Abilmente dal proprio Avversario Joao Luiz Ancora Joao Luiz In avanti Viene servito Filipe Pallone all'indietro Per Gomes Poi ancora Oseano Oseano colpisce Il proprio compagno Intanto cortesemente Collega Medeogoria Ci porta Risultato di Roma 2 a 1 La vittoria della Roma Quindi la Roma È finalista Per la Partita che si giocherà Partita di andata Che si giocherà Sul campo della vincente Tra quella che stiamo Alla quale stiamo assistendo Si è qualificata Quindi la prima squadra italiana Per questa finalissima Di Coppa UEFA Saltato quindi Difficile avversario Bremen Squadra danese Abbastanza quotata Calcio di punizione Mentre siamo al ventunesimo E l'Inter in vantaggio Per 1 a 0 Gol di Matteo Saquindicesimo Sul calcio di rigore Va in avanti Adesso Douglas Si gira E cerca di colpire Balakov Pallone Per il quale Intendeva a servire Il compagno Che però Non è scattato Rimessa laterale Per la formazione Dell'Inter Per ora I nerazzurri Sono qualificati Per la finalissima Sentiamo da Giacinto Facchetti Un rapidissimo commento Sull'avversaria Che è la Roma Che si è già qualificata Per la finalissima La Roma ha confermato Il momento buono Perché da Da un paio di mesi Sta giocando A grandi livelli Aveva il problema Di Wöller Che però Ha recuperato Ed era molto importante Per la Roma Ha corso il pericolo Contro questo Bremen Che è Una squadra difficile E non gode Di grande considerazione Però come tutte le squadre Che non gode In grande considerazione Possono essere Molto pericolose In quanto Atleticamente Sono molto forti E per noi In questo momento Il campionato Possono creare Dei problemi Pacchetti Un'ultima cosa Meglio la Roma Meglio il Bremen Ma è chiaro Che come valore È più forte la Roma Quindi direi che per noi Era meglio il Bremen Ma giustamente Meglio Che ci sia una squadra italiana In finale Ventiduesimo Quasi ventitresimo Nel corso del primo tempo A San Siro Inter 1 Sporting Lisbona Zero Gol di Matteo Su calcio di rigore Al quindicesimo Per un atterramento Di Bianchi In azione La formazione Dello Sporting Di Lisbona Pallone toccato Da Balakov Lo scambio Con Douglas Poi ancora Però avanza La formazione Del Sporting Di Lisbona Molto pericolosa Questo pallone Che all'interno Dell'area Viene però In uscita Conquistato Da Zenga Finora Nessun intervento Impegnativo Da parte Di Zenga Si è aperta Per un pochino Lo schieramento Difensivo Dello Sporting Di Lisbona C'è quindi Da sfruttare L'opportunità Di arrivare In contropiede A infilarsi In uno schieramento Vi dicevo Che è più aperto Di quanto non fosse All'inizio Ecco Non arriva A colpire di testa Anticipato Matteus Scatta subito In velocità La formazione Dello Sporting Di Lisbona Pericolosa Quest'azione Adesso Con Oseano Con Galakov Sulla sinistra Il cross Allontana Però si può andare Ancora al tiro Bisogna stare Molto attenti Il tiro Rimpallato Ancora Oseano Usciva l'Oseano Per fortuna Al momento del tiro Adesso vediamo Di chi è l'anticipo Arrivano i giocatori Dello Sporting Di Lisbona Adesso Joao Luiz Si prepara A effettuare il trio Continua a insistere In questa fase D'attacco Allo Sporting Di Lisbona Piuttosto sbilanciato In avanti Ma in pressione Vicino ai 16 metri In possesso di palla Adesso Douglas Allontanato Progresso Balakov Poi ancora Sulla sinistra Dove sfugge Al controllo Di Leal Quindi Sfuma Questa prima Insistita Azione D'attacco Da parte Dello Sporting Senza però Arrivare Al tiro Rimessa laterale Per i Nerazzurri Siamo quasi al 25esimo Nel corso Del primo tempo La partita segue Lo suo svolgimento Tattico Più prevedibile Dopo che è andato in vantaggio L'Inter Quindi tocca Allo Sporting Di Lisbona Rischiare qualche cosa Ma proiettarsi In attacco Perché Il pareggio Con le reti Serve allo Sporting Di Lisbona Per qualificarsi Lancia in profondità Con Bianchi Che riesce a toccare Il testa Per Paganin Che allontana Poi Verti in possesso Di palla Con Matteus Non riesce Dreamliga Matteus Riconquista palla La formazione Dello Sporting Di Lisbona Si gioca Con il pallone Addosso al corpo C'è un intervento Arbitrale Fallo per Questo calcio di punizione Che viene assegnato All'Inter Va a piazzarsi Quindi adesso in avanti L'Inter Senza Insistere però Più di tanto Ci sono cinque giocatori Nella metà campo L'avversaria Pallone che arriva Alle parti di Berti Riesce a conquistare Il pallone Berti Lo alza poi Bianchi Che cerca L'appoggio Ecco che c'è Serena con Breme Pallone ancora Per Serena Che lotta Cerca di svincolarsi L'arbitro Lascia proseguire Si era visto benissimo Che Joao Luiz Lo aveva stretto Per il braccio Arriva Breme Per un attimo Interviene Riesce a rubare Riesce a rubare palla L'arbitro dice Che si può Continuare Ancora un cross Con Klisman Cerca di dare all'indietro Ci riesce Vediamo Nicola Berti In avanti Per il tiro Un vero peccato Calcio di rigore Per il calcio di rigore Per atterramento Di Bianchi In azione Joao Luiz Riesce a serire Duda Spallone all'indietro Fischi naturalmente Del pubblico Che accompagnano Questa azione Portata avanti Dallo Sporting di Lisbona Con molti passaggi laterali Vediamo anche Luizinho Che si porta in avanti Ecco attenzione Luizinho Che è in grado di Pericolosissimo Salvataggio Da parte di Zenga Pericolosissimo Sul lancio di Luizinho C'era stata l'opportunità Per andare al tiro E' uscito Zenga Salvato di piede Tanto però prosegue L'attacco Resto è Leal Che cerca il cross Colpo di testa Del libero Battistini Che allontana Poi tocca all'indietro E tutta l'Inter Nella propria mitacampo In posizione Un pochino di sacrificio Vedremo Se sarà possibile Rivedere l'azione D'attacco Dello Sporting di Lisbona Da segnalare Comunque al 27esimo Una grande occasione Con il tiro di cadete Poi salvato Da Zenga Fallo commesso da Matteus Che si è reso conto Che si è reso conto Che è il momento Di fermare un pochino Questo forcing Che viene effettuato Allo Sporting di Lisbona Ecco qui l'occasione Cadete Proprio arrivato Agli 11 metri Il tiro era pericoloso E' andato col piede sinistro A salvare Adesso abbiamo visto un tiro Durante il rally Che è stato Oseano Che ha tentato Da 4-5 metri Fuora dell'area di rigore Tiro alto Che non ha preoccupato Zenga Che invita i suoi Alla calma E a rallentare Eventualmente La ripresa del gioco Effettuato il rinvio Da Walter Zenga Ancora salta Ma viene spinto Alle spalle Concesse la norma Del vantaggio Mentre Quisma rimane a terra Bianchi può appoggiare Invece sulla destra Ancora Verso Paganin Ancora per Bianchi In velocità Bianchi Supera il proprio avversario Poi all'ultimo momento C'è Leal Che gli mette la palla fuori Rimessa laterale Per i narazzurri Pagbanin Begdi Soltanto compagni Marcati Poi su questo rilancio Lunghissimo Da parte di Ferri C'è l'uscita sicura Di Ivkovic Ancora forse c'è spazio Eccessivo Per la discesa Dei veloci giocatori Dello Sporting Di Lisbona Avanzano In massa Di Luizinho Pallone ancora in avanti Dopo che è stato Abbattuto Il calcio di punizione Siamo oltre la mezz'ora Di gioco Riesce Berti Ma lo ferma Lo ferma Joao Luiz Come vedete Non sono Sono anche un pochino In affanno I giocatori dello Sporting In sguono Non sono abbastanza calmi Cerchiano di accelerare Il gioco Quindi Perdono qualche pallone Che viene regalato All'Inter Come è stato in questo caso Vediamo adesso Ferri in azione Trova spazio Per servire Breme Pallone da calciare E via Ci va Serena C'è un fallo L'intervento Ai danni di Serena Di Joao Luiz Resta a terra Serena Inquadrato Primo piano Subito un colpo Al costato Ci sarà questo calcio di punizione Mentre possiamo rivedere L'azione Effettua un buon Pressing Gli giocatori Dello Sporting Intanto sentiamo ancora Pacchetti Che già in un certo senso Aveva anticipato Quello che poteva succedere Dopo la marcatura Dopo l'1-0 di Matteus Sì Avevo detto Che il vantaggio Poteva creare Dei problemi tattici All'Inter Se si manteneva Troppo nella propria metà campo E abbiamo visto Che in due occasioni È forse il pericolo Di subire gol L'Inter Non può giocare In contropiede Perché secondo me Non ha i giocatori Per fare il contropiede E ha una difesa Invece Che può permetterli Di giocare Sulla metà campo Perché sono difensori Molto veloci E quindi Non hanno paura Non temono la velocità Degli attaccanti portuguesi Mentre si giocano Nella propria area Qualche volta può correre Qualche pericolo Quindi direi che deve Ricominciare Ad attaccare E a fare gioco Altrimenti cuore Altrimenti cuore dei pericoli È un portiere È un portiere Vi dicevo Che godere una certa fama Per quanto riguarda I calci di rigore Ne ha parati parecchi Anche un paio La Maradona Che certamente ricorderete Non ha potuto fare niente Invece contro la sventola Raso terra Di Matteo Salle quindicesimo Vediamo Bremi Deve fare attenzione Perché Bremi può dare A Berti Leggermente troppo in avanti Il lancio Lotta anche Klisman Cerca di tenere Il proprio avversario Però L'azione prosegue Lo scatto adesso Di Filippe Interviene poi L'ultimo momento Anche Bergome Riesce a allontanare Il pallone E porgerlo a Zenga Sta giocando E ovviamente La sua partita Lo Sporting Deve comportarsi così Se I consigli di Facchetti Potessero arrivare Fino al campo di gioco Forse qualche cosa Cambierebbe L'atteggiamento tattico Dell'Inter Intanto su questo lancio Non scatta nessuno Sia Bianchi Che Klisman Erano in linea Con i propri Avversari Osserviamo Quindi Douglas Un altro Uno dei quattro Brasiliani Che sono in campo Ancora Douglas Gio Luiz Cambia nuovamente Il gioco Dalla parte opposta Per Leal In posizione Di copertura Arriva Matteus Poi pallone Per Paganin Serve subito Paganin Breme Lanci in avanti A cercare Lo scatto Di Serena Che in vantaggio Sul proprio Avversario C'è forse Uniter Acora Serena Cerca Lo spunto Azione Molto molto Pericolosa Portata avanti Dall'Inter Favorito Serena Da un'indecisione Difensiva Si è trovato Il pallone Ecco che possiamo Vederlo Si è infilato Tra due Avversari E quando cercate Di colpire In uscita Ickovic Si ha liberato Di piede Allontanando La minaccia Si tratta Comunque Sempre di Calcio D'angolo Applausi Per Serena Vicinissima La conclusione Adesso Al 35esimo Calcio D'angolo Battuto C'è incredulità Da parte Dei giocatori Dello sport In protesta Anche Ickovic Mentre si fa Grande festa Colpo di testa Da parte Di Berti E poi A porta vuota È stato Klisman Adesso Rivedremo L'azione Al 35esimo Raddoppio Dell'Inter Ecco il tiro L'intervento Di Ickovic Resta a terra La porta vuota La palla Che batte Nettamente Poi dietro la riga E finisce in rete Quindi raddoppio Al 35esimo Dopo il tiro Molto forte Klisman Di piatto Mette la palla Proprio alle spalle Del portiere Pallone Abbastanza difficile Da indirizzare Ma È stato abile Klisman Non rischiare Più di tanto Di piatto destro La messa Alle spalle Di Ickovic 2 a 0 Quindi Per la formazione Nerazzurra Al 35esimo Sulla palla Non trattenuta Da Ickovic Come avete potuto Osservare Palla in rete Con Klisman Che ha segnato Il raddoppio Vediamo Seano Ancora le prese Con Bremi Arriva Klisman Anticipa Chi entra in dribbling E poi allontana Il pallone È servito Benissimo Battistini Battistini a spazio Lo scatto Di Berti Che però è ormai Terminato in fuorigioco E ha tardato troppo Adesso Deve fermarsi Berti nella sua azione E infatti Berti Vedete che si lamenta Verso il compagno Aveva tentato Di ritardare Il suo scatto Però è stato servito Troppo tardi Da Battistini Un vero peccato E c'era nuovamente Si era spalancata Alla metà campo Della formazione Dello Sporting di Lisbona Che comunque Adesso è in attacco Con Douglas Matteo in avanti Matteo preso per il collo Scatta Ma ci sono cinque avversari E Matteo È andato un pochino In confusione Se fosse inquadrato Lo vedremo con le mani Nei capelli Ha cercato di spingere Un pallone in avanti Convinto di poter servire Un compagno Invece Si è persa così E intanto Riusciamo però Con L'aiuto di Facchetti A capire Perché Semplicemente Matteo Si è allontanato Il pallone C'era un fallo Il gioco era fermo Quindi lui si è trascinato Il pallone in avanti Calcio di punizione In favore Dello Sporting di Lisbona Trentottesimo Nel corso Del primo tempo La situazione Vede l'interi Vattaggio per 2 a 0 Regore trasformato Da Matteo Al quindicesimo La doppia di Klisman Al trentacinquesimo Il tiro da fuori misura Un tiro spilenco Che va fuori A quindicina di metri Rispetto alla porta Difesa Da Zenga Si resta quindi Su punteggio Di 2 a 0 Mentre mancano Meno di 7 minuti Al quarantacinquesimo Nessuna parata Difficile Negli ultimi minuti Da parte di Zenga Un solo pericolo Portato da un raccaterra Pericoloso di cadete Che si è rappresentato Davanti alla porta All'altezza del dischetto Del rigore Oltre a quella occasione Molto pericolosa Zenga si è abilmente Disimpegnato Ancora cadete Arriva Anche Mateus Lanci in avanti Con Paganin Che è ferma Sfugge il pallone Intanto a Bianchi Che era preso In contropiede Ecco lo spazio Che può servire All'Inter Adesso Serena deve effettuare Un appoggio laterale Non riesce a servire Di esterno Klisman Ancora Oseano Che ne scambia Con João Luiz Errore Come era prevedibile Un pochino di confusione Sia da una parte Che dall'altra Partita tra l'altro Molto sentita C'è per l'Inter Comunque il conforto Dei due gol messi a segno Da Mateus al quindicesimo Da Klisman al trentacinquesimo All'indietro Balakov Per Luizinho Libero brasiliano Buon ottimo pallone Servito Adesso All'intervento di Battistini In anticipo Servito Breme Si porta il pallone sul sinistro Poi lancia in avanti Però è in anticipo La formazione Dello Sporting Avanza Luizinho Palla al piede Pinta due volte il cross Poi lo effettua finalmente Colpo di testa Abbastanza sbilenco Da parte di Douglas Pallone molto lontano Anche questa volta Dalla porta difesa Da Zenga Cinque minuti al termine Del primo tempo Perlomeno al quarantacinquesimo Non ci dovrebbe essere Molto da recuperare Soltanto in un paio Di circostanze Ci sono stati Gli interventi Del medico Del massaggiatore Una volta per lo Sporting Una volta per l'Inter Asserviamo intanto L'esito di questo L'invio effettuato Da Zenga Arriva Klisman Pallone che viene Conquistato da Luizinho Calcio di punizione Dice l'arbitro Adesso probabilmente Andrà a redarguire Verbalmente Breme Che ha allontanato Il pallone E Klisman Che ha rialzato Il proprio avversario Scivola a terra Luizinho Calcio di punizione Che deve essere Ancora battuta Ancora lo stesso Simpatico Libero Brasiliano Tocca lateralmente Mentre c'è Un certo movimento Nella parte d'attacco Della formazione Dello Sporting Di Lisbona Serena anticipa Mette avanti C'è stato un contrasto Piuttosto duro Si gira Verso l'arbitro Serena L'arbitro Non è intervenuto L'arbitro Fa proseguire Nella circostanza Ancora di esterno destro Viene servito Seano La finta Avanza ancora Douglas Il pallone in mezzo Molto pericoloso Bisogna stare attenti Vediamo chi può andare al tiro Colpo di tacco E adesso L'appoggio Con Piccolo batticuore Un eccesso Forse di sicurezza Da parte di Bergomi Chiediamo Conforto a Pacchetti Beh Ha dato la palla A Zenga Tranquillamente Certo che Gomez Dobbiamo sempre Stare attenti Perché è una volpe Nell'area Un giocatore Che possede Un grande fiuto Del gol E sempre Non sempre Temerlo 35 anni Ma di furbizia Li ha conservati tutti Anche se sul piano fisico È indubbiamente Più lento Di quanto Non fosse Nell'età In cui è diventato Due volte Scarpa d'oro Salta Bianchi Una spinta Poi c'è Comunque Un fallo Si trattava Scusate Ho detto Bianchi Ma avevo visto benissimo Che era Berti Calcio di punizione Ancora in favore Della squadra Lo Sporting di Lisbona Già battuto Ancora In avanti La squadra di Lisbona L'arbitro indica Che si può proseguire Cadete Aspetta che si possa piazzare Qualcuno Trova l'appoggio In João Luiz Il lancio Di Felipe Poi il pallone Appena toccato Sullo scatto Da João Luiz Quindi Calcio Di rinvio Che potrà essere effettuato Da Zenga Mentre siamo quasi al 43esimo Nel corso del primo tempo Qui a San Siro Con l'Inter Che conduce Per 2 a 0 I marcatori Matteos Al 15esimo Su calcio di rigore Per atterramento Di Bianchi Al 35esimo Gol di Klissman Stavolta l'arbitro Si è avveduto Del fallo Che è stato commesso Ai danni di Klissman Si rialza comunque Il marcatore Della seconda rete Del nero-azzurra Calcio di punizione Che verrà battuto Da Matteus Scusa anche Del pubblico Per questo spunto Del giocatore Dello Sporting Di Lisbona Pallone che finisce Indietro Verso Ipkovic In azione Luisinho Servito ancora Su la destra Joe Luis Pallone che si è avvenuto Quindi lungo da parte di Zenga, pallone alzato a campanile da Leal. Pallone che è uscito, ha cercato di girarsi ma non ha ruotato abbastanza con il corpo, Bremen quindi pallone che è uscito. Per la rimessa laterale ancora Joao Luiz, cadete ancora Joao Luiz, vanno avanti in tandem i due, si trattava di Douglas, eccolo qui cadete, può servire Oseano che riceve in questo istante, deve superare Bremen, non ce la fa questa volta mentre viene colpito Bremen colpo al volto. Siamo a una cinquantina di secondi, già quasi un minuto, oltre il tempo regolamentare fischia l'arbitro. Era intervinto guardia linea a indicare che il pallone era uscito, quindi si prosegue una rimessa laterale in favore della squadra nera azzurra. Pallone in avanti per Nicola Berti. Mancato il triangolo, poi è Serena, concessa la normale vantaggio con Oseano. Lo scatto di cadete vanno in due, a chiuderlo è stato Paganin che era in prima battuta, a mettere il pallone oltre la linea di fondo, era pronto a intervenire comunque anche Bergomi. Si chiude quindi con lo sport di Lisbona all'attacco, c'è un altro calcio d'angolo, è il secondo. Si prepara Balakov a battere il calcio d'angolo, siamo già quasi un paio di minuti in fase di recupero, siamo vicini al quarantasettesimo, tra l'ittoria con effetto molto pericoloso, l'uscita di Zenga che blocca fra due avversari, era un passo anche l'arbitro. Indica che anche il tempo è finito, quindi non credo che si batta il calcio di punizione. Chiede il pallone l'arbitro e ci si avvia gli spogliatovi, ribadisco il risultato con cui si chiude il primo tempo. L'Inter è in vantaggio per 2-0, Gordi Matteo su calcio di rigore al quindicesimo, raddoppio di Klisman al trentacinquesimo e ci risentiremo dopo l'intervallo. A tutti grazie per la cortese attenzione, rivediamo comunque l'ultimo intervento da parte di Zenga. Grazie.